Buongiorno a tutti, secondo video, anzi terzo perché ci sono state le bollette di questa sera, campionato spagnolo, campionato francese adesso, andiamo a vedere le altre nove partite che si disputeranno domani a partire dalle 17. Prima partita di domani, Nizza Stade Reims 1x, Strasburgo Angers 1, Paris Saint Germain Lille 1, Brest Monaco 2, proseguiamo con l'Orient Ajaccio 1x, Troyes Montpellier, partita d'aiuto aiuto, arriva il lupone 1-2, anche perché, come dico spesso, i pareggi qua, nell'era dei tre punti il pareggio è una mezza sconfitta, quindi le squadre non entrano in campo certo per fare 0-0, poi succede perché magari si annullano, perché magari nessuna delle due ha voglia di rischiare più di tanto, anche se vorrebbe vincere, però ha paura di perdere, eccetera eccetera eccetera, però tendenzialmente pareggiare è una mezza sconfitta. Ren Clermont 1, Lens Nantes 1, vedremo se Lens è capace di battere questo Nantes, riesce a fare meglio della Juventus perché veramente tutto mi sarei aspettato ma ne parleremo poi nella notte come cantavano quelli là e lo vedrete domani mattina alle ore 9 il riepilogone dell'Europa League, perché prima c'è il momento fisso delle news e delle cold news alle 7 alle 8 e per stasera vi ho già lesionato abbastanza i testi con questi. Poi nella nottatissima faremo anche i due pretini perché ci vogliono, comunque stavo dicendo vedremo se Lens riuscirà a battere il Nantes, mi arrischio l'uno. Infine Tolosa Marsiglia X2, proseguiamo ragazzoli con la schedina alternativa. Come sempre il gigione va giù molto di mannaia perché come vi dico sempre fare delle dei pronostici da over 1,5 a 1,30 a 1,20 per dire ne ho prese tutte e vabbè grazie tanto 1,10 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 scontatissime. Se proprio ti va di sfiga ne sbagli due perché sono successe due patatracche gigantesche perché comunque magari c'era la partita malefica che esulava da qualsiasi pronostico cioè qualsiasi o giocavi la triplo se no avevi comunque il 50 per cento di prenderla a prescindere anche se mettevi la doppia che dovrebbe essere il 66 per cento e non il 50 ma in certe partite anche con la doppia nulla è scontato. Proseguiamo con appunto la schedina alternativa il gigione che va giù di mannaia. Nizza, Reims o Stadde Reims che dir si voglia over 2,5 dato a 2,05. Strasburgo Angers over 2,5 dato a 2 tondo tondo. Paris Saint Germain Lille gol più over che ve lo dico a fare ormai il Paris Saint Germain è abbonato ai 2 a 1 ai 3 a 1 eccetera eccetera l'ultima volta ha preso tre pere dal Monaco però il gol l'ha fatto il gol l'ha fatto quindi è gol più over, over 3,5 eccetera eccetera eccetera. Quindi ormai è abbastanza assodato e scontato che il Paris Saint Germain i suoi gol li fa e li prende quindi il gol è scontatissimo siccome spesso e volentieri di gol ne fa due o tre o ne prende due o tre segnandone comunque uno il gol più over è un must per le partite del Paris Saint Germain. Tra l'altro Libidino è dato a 2,60 il gol più over di Paris Saint Germain Lille. Brest Monaco over 2,5 dato a 1,72. Questa è la quota più bassa che c'è in queste schedine. Lorien Tagliaccio over 2,5 dato a 2,20. Truamont Pellier partita da aiuto aiuto arriva al lupo partita in cui le due squadre non si possono accontentare del pareggio perché non gli servirebbe a nulla quindi gol più over dato a 2,05. quindi come vedete non è una quota altissima per un gol più over. Ren Clermont gol più over dato a 2,40. Ren è un'altra squadra che gol li fa ma il golletto lo prende sempre da Curucu quindi il gol più over ci può stare per di più c'è anche una quota interessante 2,40. Lance Nantes gol più over dato a 2,40 anche questo. Qua rischio, rischio perché il Nantes sarà on fire dopo il pareggio con la Juventus quindi magari va a Lance bello spavaldo, bello carico poi prenderà 4 pappine ma il golletto magari glielo fa magari segnando anche per primo. Passa in vantaggio poi Lance in chezza. Scusi mister ma cos'è successo? Eh il gol ha freddo, sì ma il gol l'avete fatto voi. Eh lo so ma loro erano freddi, li abbiamo riscaldati perché li abbiamo fatti un gol, ci sono inviperiti, ci sono incazzeti e ci hanno fatto un mazzo a tarallo. Infine concludiamo con Tolosa, Marsiglia over 3,5 dato a 2,60 anche qui vale il discorso che facevo per un'altra partita del campionato spagnolo. C'era l'over 2,5 data 1,63 che non mi acchiappava più di tanto, il gol non lo so, ero incerto tra il gol più over e l'over 3,5. Ho detto no, rischiamo l'over 3,5, magari viene fuori 1,04 o 1,1,3. Proviamolo, è dato a 2,60, è l'ultima partita della giornata, per di più si gioca di lunedì. Cerchiamo una quota un attimino più altina perché magari di partite ce ne sono pochine pochine a lunedì e quindi magari uno ha bisogno di comunque avere una quota interessante perché sennò è inutile che la gioca. Ripeto, per farvi dei pronostici da 1,30, 1,20, 1,40, anche no. Io vi metto dei rischi, è logico, sono dei rischi, però pagano, poi scegliete voi quello che vi piace di più, sennò state col braccino corto, mi andate di under 4,5, di over 1,5 che sono le due quote migliori e più probabili a seconda delle partite e mi fate una schedina magari anche di 10 partite di under 4,5, di over 1,5. Sono 10 partite, c'è il bonus perché sono 10 partite, anche se paga poco alla fine della fiera 5-6 volte la posta dovreste riuscire a portarlo a casa. Giocando con furbizia e con intuito perché ragazzi miei, uno dà per scontato che una gara termina 0-0, fanno 4 gol. Poi la gara che dicono, questo è favorettivo, gol più over dato a 1,50, questi faranno cacca-terve di gol, 0-0, 1-0, 0-1. Prendi i maroni e li appoggi perché ti si sono gonfiati a dismisura, anzi no, li trattieni perché sennò a furia di girare decolli. Va bene, ragazzoli, lasciamo perdere le questioni pallose, no, pallose, 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 scrutali per intenderci. Speriamo in una bella botta di fortuna per non essere troppo volgari, anche se il volgarismo è senza limitismo e ci vediamo alla prossima. Ciao!